Grazie a tutti Anche due o tre partite sono andati con seconda squadra per recuperare vari infortuni Però è molto contento, soddisfatto soprattutto che è a livello molto alto Che lui il primo obiettivo è di cercare una squadra forte dove riesce a vincere più possibile Su questo punto di vista è psicologicamente e fisicamente pronto per prossima estate Per prossima estate che sarà impegnativa Sei molto impegnativa Torniamo a Legnaro perché siete una polisportiva, avete il grande Luca Rampazzo Poi dobbiamo parlare ancora di Panettoni Non so più poi com'è finita la storia di Panettoni Speriamo sia finita Vincenzo Falconetti invece è il segretario, uno dei dirigenti di questa squadra Difficoltà organizzative, fatiche, com'è? La parte che riguarda l'aspetto economico è stato già toccato Se per le società di A1 è difficoltoso Lo lascio immaginare, lascio immaginare Quello che è per le piccole società Che si reggono solo ed esclusivamente sulle quote Dei genitori e dei volontari soprattutto Quindi grosse entrate Anni fa probabilmente c'erano più società disponibili a sponsorizzare le attività Ma negli ultimi anni le entrate sono diminuite sensibilmente Per cui è uno sforzo non indifferente portare avanti una società come la nostra Che ha circa 600 soci distribuiti nelle varie discipline Con quello che arriva poi dai finanziamenti pubblici Ormai è zero Per cui ci sono tantissime difficoltà Però cerchiamo di andare oltre E guardare come si diceva prima al settore giovanile Che è quello che dovrebbe dare una maggiore linfa Poi a quello che è le squadre maggiori Io seguo più da vicino le giovanile E qui stasera abbiamo i due capitani Della Under 16 e dell'Under 18 Femminile Infatti sono inquadrate adesso la nostra regia Che le ha giustamente riprese E quest'anno devo dire che A parte giustamente come è stato detto Che hanno, essendo giovani Hanno quegli alti e bassi di cui si parlava prima Però quest'anno sicuramente le soddisfazioni stanno Stanno arrivando Siamo soddisfatti Livo ti devo fare una domanda però sulla nazionale italiana Che idea hai? Di cosa è successo? Di cosa potrà succedere? Visto che tuo figlio è coinvolto Ti avrà detto qualcosa? Sì, qualcosa Ma non più di tanto Non è che lui si lascia andare su certe cose Lui è uno che tutte le cose bisogna lavare in casa Per cui so quanto sai te più o meno Forse qualcosina in più ma non di particolare Non è nato lì Sicuramente il risultato come lui in primis Tutti gli altri non sono assolutamente soddisfatti E non aspettavano una cosa del genere Però c'è motivazione enorme di rifarsi al più presto possibile Questa è una cosa credo che è più importante in questo momento Ti piace il berruto come allenatore? Ma questo Io di miei colleghi non ho mai parlato male Non posso parlare Sicuramente non è casuale che è lì Se piace o non piace non è importanza Sicuramente è importante che fa bene per nazionale Poi gusti sono gusti Sicuramente in un lungo periodo ho fatto molto bene Cosa si è successo sicuramente In quel frangente Certe cose sono successe strane Si vedeva che probabilmente è stato cambiato qualcosina Non è casuale che è stato anche cambio di staff Che non ho capito bene cosa si è successo E questo non lo so E lì c'è da domandarsi Che è successo qualcosina Al di là del solo squadra Eccetera eccetera Però cosa San Franco poi le federazioni Non è facile per le federazioni affiliate al CONI Comunque scegliere lo staff tecnico L'allenatore giusto Nel momento giusto Credo che Perché ci sono tante teste In una società privata Passami termine Forse è un po' più semplice Lì ci possono essere tante correnti di pensiero Ti faccio l'esempio di una federazione Che ha fatto i campionati del mondo Una settimana fa Quella della federazione italiana Sporti Invernali Non era andata bene Ha cambiato tutto lo staff Ha messo degli altri allenatori Sembrava che avesse trovato il sistema Perché ha vinto alcune gare di Coppa del mondo Però ai campionati del mondo C'è stato È successo qualcosa di imprevedibile Perché sono arrivati tutti dopo il quindicesimo posto Cosa non era mai successo Però battuti dalla Germania Da Lichtenstein Cioè voglio dire E l'allenatore Che è stato messo dall'inizio dell'anno Sembrava la panacea di tutti i mali Quindi lo sport è anche Io voglio dire Non si può parlare di un allenatore E' strano E' alchimia E' alchimia Certe volte si arriva al momento giusto Con gli uomini giusti E si vince tutto E' sport difficile spiegare Però è difficile spiegare Magari si arriva al momento sbagliato Non c'è una forma Altrimenti sarebbe molto più semplice Voi avete trovato già in una bella alchimia Credo con Valerio e con il suo staff Mi sembra che ci sia Che sia l'uomo giusto il posto giusto Per gli uomini giusti L'anno scorso Con il campionato di A2 E' stata un po' una scommessa Quest'anno una buona conferma A noi piace come lavora Poi io francamente Non sono un tecnico Sono un tifoso Come possono essere tanti altri Non sono un tecnico Diamo fiducia a questa persona A me sembra che la squadra Lavori bene Vedere persone Insomma Comunque Che Non sentire Litti Ogni Quello è importante Di spogliatoio Questo credo che sia importante E sia un merito Vedo Stefano Com'è sempre Lo faccio Periodicamente La situazione Multe Multe vostre interne Multe da pagare Ritardi Com'è? Com'è il budget? C'è la spesa? La lista lunga La lista? Sono un paio di fogli Un paio di fogli Non si pagano No no pagano Ho detto che alla fine Farà una Però vedete che lista Lunga che non paga nessuno Ma c'è La lista è lunga Perché c'è il conto Fatto alla fine La lista è lunga E anche hanno Dei controllori Giusto Abbiamo Dei giudici Che decidono Ma c'è già una cassa Oppure fa tutto alla fine? No Non vogliamo cassa Perché poi Qualcuno scappa con la cassa Vi dobbiamo rimetterli Alla fine È sempre Vianello In testa C'è qualcun altro Sapevo che era Vianello Uno dei più multati Poi non so C'è anche qualcun altro Questi sono segreti Dispogliatori Non l'hanno detto loro Io non l'hanno detto Forse Vianello è quello stesso C'è qualche altro C'è qualcuno che eccelle Insomma nelle multe Sta prendendo strada Ma per i ritardi Per le divise Per cosa? Per tutto Ritardi Divise Palloni non raccolti Allungamenti non fatti Battuta sotto rete Battuta sotto rete Più tanto Qualcuno anche perché esiste E viene avvitato Chi è che tiene nota Di questo? Chi è il contabile? Capoccia Tra rosso e orduna Ah però non so Non scappa nessuno Lo sapevo io che c'erano i due censori Allora non scappa nessuno Anche i due tempi Lugo c'erano queste cose Sempre Sempre state Ma questo è bello Del spogliatoio Che il natore L'importante è che il natore Non entrano in questa cosa È una cosa bellissima Perché toglie metà cose Il natore Che non deve pensare nulla C'è un'autogestione Questo è bellissimo Tra loro si devono Pungere tra virgolette E questa è una cosa Che può essere Molto stimolante Molto stimolante E positiva Mi date un po' il microfono Perché mi era rimasta La domanda di Panettoni Per Luca Rampazzo No ti ho disturbato Ti ho chiesto qualcosa Sulla federazione Ma dimmi qualcosa Sulla tua serie C invece Perché è ambizioso Allora Presidente Gli avete fatto una promessa Mi sa che Sì Diciamo che Il termine promessa È un'interpretazione Un po' estensiva Di quello che ci siamo detti Ma Fatta sta La nostra è una squadra Che come tutte le squadre Di questa categoria È sempre la ricerca Dell'equilibrio Fra disponibilità Cioè Tempo da dedicare Al lavoro Capacità tecniche E motivazioni Per ora Stiamo facendo Bene Potremmo fare Un po' meglio Dovremo fare Un po' meglio E abbiamo anche Buone aspettative Insomma Chiaro che Ci sono dei periodi Che le cose Non funzionano Voi perché Non possiamo allenarci Voi perché Non riusciamo A trovarci Tutti assieme Per un certo periodo Quello che ha di buono Questo gruppo Che A me dà molto Molto poco Da lavorare Rispetto a quello Che Agganciandomi a quello Che diceva Liubo Tra di loro Hanno creato Una serie di rapporti Interni Per cui io Non mi preoccupo Dei loro litigi Dei loro Dei loro momenti Un po' su Un po' giù Perché se la sfangano Loro Si arrangiano da soli E l'unica cosa Che mi chiedono E a cui concedo Ben volentieri Al giovedì Rinuncio a un po' Di allenamento Perché devono fare La pasta asciutta Ah Una cosa Che mi hai messo Ho capito Va bene Abbiamo scoperto Anche Abbiamo scoperto Questa cosa Liubo Siamo in chiusura Io so che tu fai Un camp Organizzi un camp In dieci secondi Ci dai un flash Sì un camp In Croazia Apparenza Un bellissimo posto Già da tre anni C'è da Da 21 Giugno Fino a 9 Luglio Aperto a tutti Aperto a tutti Da 9 A 19 anni www.volleyteam.org Si possono trovare Informazioni Tutto informazioni Possibili Immaginabili www Sempre Da 24 ore Sono lì Da mattina Controlli tutto Per forza Perché vogliamo fare Una cosa molto bene Sul livello alto Arrivano tanti ospiti Compreso mio figlio Savani Milkovic Omercene Sono tanti ospiti Questi anni Sono arrivati anche Diversi ragazzi da Padova Tantissimi italiani Ultimi tre anni E spero che quest'anno Vengono Numerosi Anche un invito A questo punto www.volleyteam.org Assolutamente Le iniziative sportive No Gianfranco Noi siamo sempre qui Tra l'altro fine settimana Non è pallavolo Ma è atletica leggera C'è il campionato italiano Indora Indora Al palazzetto Di Padova Al palazzetto vicino Allo Stadio Uganeo Si inaugura un palazzetto Bellissimo Ecco questo vogliamo dire Ci sarà la diretta Sulla eSport Due Campionati italiani assoluti Sabato e sia domenica Quindi Campionati italiani assoluti Visto che domenica L'Atonasto non gioca No Gianfranco Abbiamo tre venditi Anche E allora Quindi riempiamo Assolutamente Per i campionati italiani Assoluti di atletica leggera L'applauso per il legnaro Grazie di essere venuti Grazie a Luca Grazie al presidente E un bocca al lupo Per le vostre cose Grazie a Stefano Giannotti Mi raccomando In gamba Occhio con le mute Occhio con le paste Occhio con tutto Gianni Burgo Crescete e moltiplicatevi Soci della Pallavolo Padova Possiamo dire così Chi ha soci da mandarsi Ci rimandi Che noi abbiamo le braccia aperte Perché è la forza Comunque del gruppo È anche quella Assolutamente È un azionariato popolare L'unico Proprio Importantissimo Cerchiamo di allargarlo Tutta la città Deve sostenere Nello sport La nostra Pallavolo E pian piano Quelle che ci stanno intorno Grazie Gianni Grazie a Stefano Bardelli Grazie a voi Grazie a voi Grazie a essere venuto E davvero un grazie di cuore Grazie a voi E buon piacere Per rivederti qua È un invito Che credo che In Padova Intorno a Padova Sono tanti imprenditori Che possono fare ancora di più E sono convinto Liubo Sempre Meno allenatore Sempre più manager No Sono scherzato In realtà Grazie a tutti Noi come sempre Vi diamo l'appuntamento Per Allora La Tonazzo gioca Lunedì sera Scusate Alle 20.30 a Milano In questo postissimo Perché sabato e domenica Il parla sport di Desio È impegnato Per la finale Di basket Di Coppa Italia Noi invece torniamo qui Puntuali Come sempre Mercoledì prossimo Tra l'altro Con molte molte novità Che arrivano Dal consiglio federale Della FIPAV Con mani e fuori Ciao e buonanotte Ciao e buonanotte Buonanotte Grazie per la visione!